In Italia, dall'inizio dell'epidemia di coronavirus, almeno 344.000 persone hanno contratto il virus e tra queste 36.111 sono decedute. A oggi, i soggetti ancora positivi in Italia sono all'incirca 70.000, alcuni dei quali, purtroppo, appartengono alla comunità senegalese di Pontedera. Proprio per questo motivo, il presidente di quest'ultima, Mammo Di Diop, invita tutti i senegalesi risultati positivi ad adottare un comportamento responsabile, sia per se stessi e i propri cari, che per l'intera comunità. Rimanendo in isolamento all'interno del proprio domicilio e uscendo solo in caso di peggioramento delle proprie condizioni di salute, dopo aver contattato il 118 o il 112. Sfortunatamente, tuttora alcuni positivi non adottano di musere di sicurezza indicate, decidendo di non rispondere alle chiamate del musel, rendendosi irriperibili. Vi ricordiamo che i soggetti che risultano positivi e ne sono pienamente coscienti, e non rispettano l'isolamento, rischiano sia l'arresto fino a 6 mesi e l'ammende fino a 400, oppure addirittura del gastro, cioè il carcere a vita, in caso di positività di persone con cui entrano in contatto. Facciamo quindi appello al vostro senso civico e alla vostra responsabilità, in quanto questo tipo di comportamento mette a grave rischio non solo la vostra salute, ma anche quella delle persone con cui entrate in contatto.